6 aprile Molte piccole cose nella vita di tutti i giorni possono facilmente causare il disaccordo e la disarmonia. Elevatevi al di sopra di esse ed unitevi a ciò che davvero conta nella vita. Il vostro amore per me, quello reciproco, vivere e lavorare per il bene del tutto, dimenticare se stessi e tutti quei piccoli e meschini incidenti riguardanti i gusti e le ripulse personali che si manifestano incessantemente. Quando un'anima sente profondamente che ciò che sta facendo è giusto e rifiuta di molare la presa passivamente, prima o poi qualcosa dovrà cedere. Quando tiri un elastico al massimo i casi sono due si romperà oppure se all'improvviso lo si lascia andare ti ritornerà indietro facendoti male ma se lo puoi lasciare andare lentamente tornerà al suo posto senza rompersi né causare inutile dolore. perché non dischiudere il tuo cuore e placare a poco a poco l'attenzione l'amore e la comprensione ti aiuteranno sempre a spiannare la strada. la strada. la strada. la strada. la strada. Grazie a tutti.